Stadio Mancini di Fano, ore 10 di stamattina. Un gruppo di persone si aggira carte alla mano confabulando per spalti, tribune, spogliatoi e uscite di sicurezza. Chi sono e perché sono lì? Il gruppo è composto da varie figure. Asur, tecnici del comune, il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici, comandante provinciale dei vigili del fuoco, Digos, questura di Fano, vice questore di Pesaro e a guidarli il vice prefetto, il dottor Sante Capponi. Che cosa stanno facendo? È presto detto, il folto gruppo di persone, altro non è che il comitato per la sicurezza pubblica che sta valutando le misure di sicurezza richieste ed adottate dal comune di Fano per lo stadio che ospiterà il campionato di Lega Pro dell'Alma Juventus fra pochissimi giorni. Gli adeguamenti richiesti in gran parte riguardano l'impianto di videosorveglianza con telecamere sia audio che video ad alta definizione, allargamento dell'uscita ospiti per far defluire le tifoserie e non farle venire in contatto e la numerazione dei posti in ogni settore. A giudicare dalle parole del primo cittadino al termine di questo sopraluogo ci sarà presto un risponso positivo per il Mancini e con qualche piccolo ritocco finale si può dire che ci siamo. Stiamo verificando tutti gli interventi che abbiamo posto in essere per adeguarci a quelle che sono le normative di sicurezza per il campionato professionisti. Sta andando abbastanza bene, adesso alcuni altri accorgimenti ma cose minime, quindi tutti gli interventi che abbiamo fatto sono stati risolutivi e voglio anche sottolineare l'accelerità con cui siamo riusciti a fare tutti questi interventi perché non dimentichiamo che la notizia inizia estate e quindi considerando anche il periodo estivo siamo riusciti a fare tutti questi interventi. Per cui c'è soddisfazione, adesso aspettiamo anche l'inizio del campionato che sono le cose che contano sotto l'aspetto sportivo. A quando si saprà il parere definitivo del comitato? Oggi è quasi definitivo, sono alcuni piccoli accorgimenti, dobbiamo fare una verifica, siccome alcune partite saranno anche in notturna, la visibilità con le telecamere in notturna se c'è la necessità di potenziare un po' la luce, però per il resto tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi siamo abbastanza sereni.